L'archivio dell'Ispettore di Falco, di Fabio Fabiano. Legge Alberto Caneva. Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale. La cartedda di Babbaluci. Le novità sul caso delle scritte inneggianti alle corna del sindaco giunsero pochi giorni dopo con una lettera anonima inviata alla locale redazione del giornale Nuova Sicilia. La busta conteneva tre foto pornografiche, che in realtà erano dei fotomontaggi, dove era raffigurata la moglie del sindaco in scene di sesso sfrenato. E poi un foglio di carta bianca formato a quattro, con una scritta in nero, effettuata con una stampante. Sul foglio era scritto testualmente. Il sindaco e i Babbaluci hanno una cosa in comune, le corna. Dopo la ricezione, il capo redattore si affrettò a chiamare il commissariato, riferendo della missiva ricevuta, avente come oggetto il sindaco. Di Falco giunse alla redazione prontamente, assieme a Ombra e Romano. Questa volta la situazione cominciò a preoccupare l'ispettore di polizia. Mentre osservava il contenuto della missiva incriminata, commentò Certo, c'è un escalation in merito al caso. Finché ci si limita a scrivere una frase offensiva e banale su un muro, anche se del comune e contro il sindaco è un conto. Con queste foto la situazione prende una piega che mi comincia a preoccupare. Le foto e la busta furono affidate a personale della polizia scientifica. Gli specialisti avrebbero effettuato i necessari accertamenti, al fine di scoprire su di essi dei frammenti di impronte digitali, riconducibili agli autori di quella missiva. Quando i poliziotti della scientifica finirono la repertazione, Di Falco era rammaricato, poiché, sapeva per esperienza, che quei fogli erano stati inquinati dai redattori del quotidiano. Risentito in merito a quella nuova diffamante missiva, il sindaco non aggiunse nulla di nuovo, mostrando una tranquillità irreale. Romano, una volta andato via il primo cittadino, commentò Chiunque si sarebbe innervosito davanti a quelle foto, anche se si trattava di volgari fotomontaggi. Probabilmente abituato a questo tipo di pressioni, un politico navigato, forse ci nasconde qualcosa di molto più grave, suggerì Di Falco. Romano continuò Con l'ultima missiva è chiaro che non era interesse dei denigratori avvisare il sindaco della infedeltà della moglie, ma è evidente che l'obiettivo è diffamare il sindaco e che le corna o le lumache in qualche modo devono entrarci in questa storia. Di Falco concordò con la tesi del collega e cominciò a trovare un nesso tra le lumache e il sindaco. In realtà, quel pensiero gli fece aumentare il represso desiderio di lumache cotte, con il sughetto e patate. Pertanto cercò un allevamento di lumache per soddisfare la sua brama culinaria. Inserì i dati lumache-allevamento sul motore di ricerca del PC. Delineò la zona di interesse e venne fuori finalmente una serie di indirizzi e siti. Trascrisse in un foglio di carta il recapito del più vicino allevamento, convinto di risolvere la questione definitivamente. Prese l'auto e si recò presso l'indirizzo letto sul monitor del PC. Non fece molta strada e dopo circa sei chilometri dalla città, lungo la statale, imboccò una traversa che lo avrebbe condotto in contrada a Minaga. La strada interpoderale lo condusse in piena campagna. I campi erano stati da poco arati ed il colore marrone scuro era predominante, interrotto solo dai confini costituiti da muretti di pietra di colore grigio murati a secco. All'indirizzo dove doveva esserci l'allevamento di lumache, in realtà esisteva solo una centrale fotovoltaica. Da quella struttura scorse un soggetto che, con un decespugliatore, stava tagliando dell'erbaccia intorno all'impianto. Scusi, cerco un allevamento di lumache, dovrebbe essere da queste parti. L'uomo si avvicinò alla vettura del poliziotto, lo guardò e disse diffidente. È questo l'allevamento, ma mi scusi, perché vuole saperlo? Lei chi è? Quella risposta, che si era trasformata in una domanda, insospettì il poliziotto, oltre ad indispettirlo, per cui rispose a tono. Sono l'ispettore di Falco del commissariato di polizia e cerco l'allevamento Cuffaro. E lei chi è? L'uomo inghiotti saliva e cominciò ad innervosirsi e poi, con tono sommesso e sorridendo, come un ladro beccato sul fatto, disse Sono io, Cuffaro, per servirla! Di Falco, notato il cambiamento di atteggiamento dell'uomo, ne approfittò per formulare la sua richiesta. Senta, io sono venuto per acquistare un chilo di lumache. Ah! Esclamò l'altro. Cetto, le lumache qui le colteviamo! Cetto, ma... Prendeva tempo Cuffaro. Ora non posso servirla, abbiamo dei problemi tecnici. Ma se viene nel pomeriggio, ci faccio trovare le lumache. Facciamo così. Venga verso le cinque, che la trova. Di Falco, in parte soddisfatto e in parte deluso, andò via con la promessa delle lumache. Alle diciassette in punto, immancabile, Di Falco si trovò presso l'allevamento di lumache che, a prima vista, sembrava tutto, tranne che quello. Dei pannelli fotovoltaici erano posti su travi di ferro di circa quattro metri. Il resto era chiuso con del materiale plastico, tanto da formare dei capannoni di piccole dimensioni. Cuffaro sembrava aspettarlo con ansia e, appena il poliziotto scese dalla vettura, lo accolse con un sorriso. Gli strinse la mano e gli porse un sacco con dentro i molluschi tanto desiderati. «Quanto le debbo, signor Cuffaro?» «Ma nulla, non si preoccupi. Io qui vendo all'ingrosso, non faccio il dettagliante. E poi, per me, è un piacere regalarle il mio prodotto.» «No, insisto. Lei affronta delle spese. Mi sembra di approfittarmene.» «Stia sereno, non si preoccupi. Ma di che parla? Sono solo una ghilata di babbaluci.» Con le lumache, dopo aver ringraziato e salutato, finalmente Di Falco si recò dal suo amico Agostino per accordarsi sulla cottura. Il provetto cuoco sostenne «Prima di mangiarle bisogna farle pascere con il pane e dopo alcuni giorni cuocenarle.» Il giorno di cuocere le lumache, a dispetto delle indagini sulle corna del sindaco che non decollavano, arrivò. Di Falco, Ombra e Romano furono invitati e ospitati a cena nella sala da pranzo di Agostino. Le lumache furono servite come antipasto. Erano preparate con un delizioso sughetto e patate. Per estrarre i molluschi dal guscio, i quattro utilizzarono gli stuzzicadenti. A Di Falco gli venne in mente quando le lumache le preparava la buonanima di sua nonna, con le patate e il sugo di pomidoro, per lui una vera delizia. Non faceva che leccarsi le dita. Poi, immancabile, fu la scarpetta col pane. La cena fu a base di prodotti tipici come sottaceti, formaggi, tra cui pecorino, salsiccia essiccata, salami. Una vera delizia per i quattro amici, che certo non disdegnarono un vino novello prodotto dalle vigne del padre di Romano. La discussione in merito alle lumache ricadde sulla circostanza che Di Falco le aveva ricevute come lumache da allevamento. «Ma che babbaluci d'allevamento sono queste? Non vedi che sono di dimensioni e tipi diverse? Queste sono raccolte, altro che d'allevamento!» decretò Agostino, che aveva il tono dell'esperto. «Senti, chi me le ha date ha un allevamento, perché doveva darmi delle lumache raccolte?» replicò Di Falco. «Questo dovresti fartelo spiegare da lui!» rispose Agostino. Tutte quelle vivande e tutte quelle lumache non agevolarono la digestione dell'ispettore Di Falco, che stette sveglio tutta la notte. Mentre cercava di riprendere sonno, si girava e rigirava nel letto e cominciò a salirgli il dubbio sul perché Cuffaro gli avesse omaggiato le lumache raccolte, spacciandole per lumache da allevamento. Del resto, era convinto che Agostino aveva ragione. Le lumache non potevano essere di allevamento, ma non si spiegava quale poteva essere il motivo di quella menzogna.